Ben ritrovati nella seconda parte di Trenta Lancia Show. Allora, stiamo parlando di... Ma dov'è Franco? Aspetta, aspetta, aspetta. Il protagonista della puntata è lui. È lui. Ecco, ragazzi, guardate. Aspetta, guardate, è il mio amico. Una bella zoomata. Esatto, è lui, che carino. Ma questo è uno spazio che noi dedichiamo a Cake.g, cioè la nostra pasticceria preferita, specializzata in sexy cakes. Cosa diciamo di Cake.g? Allora, ragazzi, Cake.g è questa nuova pasticceria incredibile che fa le torte, come potete vedere, di qualsiasi forma voi la vogliate. Te l'ho già chiesto un'altra volta, ma dimmi un'altra forma che ti viene in mente, strana. Una doggy position, me la cavo sempre con l'inglese. Cos'è la doggy position? Una pecora. È una pecora. Alice, non per forza sessuale, come vorresti vedere una torta? Qualsiasi cosa? Una tua rappresentazione. Una mia faccia? Sì. E a questo punto Franco è in torta. Vediamo chi viene meglio in torta. Ecco, loro fanno queste torte pazzesche, tra l'altro con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Sì, perché è un prodotto assolutamente artigianale, sono materie di prima qualità, non usano semi lavorati, quindi nasce proprio il prodotto da A alla Z in laboratorio, nella pasticceria, e l'interno può essere di crema chantilly. Allora, l'impasto è fatto di sponge cake. La farcitura è di crema chantilly, oppure anche crema al cioccolato, insomma, quella che volete, e poi fanno ovviamente tutte le decorazioni fatte a mano. Tra l'altro, loro consegnano adesso solo in Lombardia, ma tra poco consegneranno anche in tutta Italia. Quindi, se volete fare un regalo particolare, una festa di un amico, qualsiasi cosa, voi potete scrivere al loro sito, che è www.cake.g.com, oppure chiamare il loro numero di telefono, che è 351-617-6909. Quindi, un addio al celibato, un addio al nubilato, un compleanno, una festa di laurea, un anniversario di matrimonio, di fidanzamento, io un dolce così particolare, bello da vedere e buono da mangiare, un pensierino ce lo farei. Esatto, poi magari tra poco ce la mangiamo. Se la mangiamo, sì. Se la mangiamo, andiamo avanti. Allora, abbiamo...